Per la seconda volta, in meno di una settimana, il San Salvatore di Pesaro è stato oggetto di un atto vandalico barbaro. Un lancio di escrementi contro la struttura ospedaliera. Un gesto che ha imbrattato sempre lo stesso luogo, le scale del padiglione F che costeggiano via Oberdan. Due episodi analoghi e, in entrambe le occasioni, il personale dell'ospedale si è accorto di questo imbrattamento avvertendo la direzione che, a sua volta, ha allertato la polizia. Forze dell'ordine che stanno indagando. Fra i sospettati ci sono i diversi senza fisse dimore malviventi che gravitano giorno e notte attorno all'area dell'ospedale e all'attigua stazione ferroviaria. Sembra infatti che qualcuno abbia scavalcato la recensione di via Oberdan per poi impegnarsi in questo insensato lancio di escrementi. La polizia sta vagliando le immagini di videosorveglianza e ascoltando eventuali testimoni. L'area dell'ospedale è regolarmente controllata dalla vigilanza soprattutto nella zona più sensibile come quella del pronto soccorso, ma allo stesso tempo è molto vasta e complicata da fornire un monitoraggio completo. Soprattutto nelle ore notturne dove già in altre occasioni sono stati rilevati furti o bivacchi interni. Al di là del caso di questi giorni si sta vagliando la possibilità di aumentare la presenza di telecamere nella zona.